Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo. Onipotente ed Eterno, ti preghiamo per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, versa la tua benedizione su di noi i tuoi servi che chiedono la tua benedizione per essere protetti, nella vita accompagnati, nelle tribolazioni aiutati, nella disperazione incoraggiati. Ti preghiamo, Signore, rivolgi il tuo sguardo ed impone la tua mano potente su tutti gli oggetti sacri che i tuoi fedeli hanno portato qui. Crocifissi, statue, rosari, immagini, medagliette, catenine, candele, vestiti per gli ammalati, sale, acqua, olio e tutti gli altri oggetti. Versa in essi, Signore, la forza di Gesù risorto, perché tramite essi i tuoi fedeli siano protetti da ogni peccato e vizio, il nostro cuore possa liberarsi da ogni paura e maledizione e fa che possiamo godere sempre la tua pace. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Voi e vostri oggetti sacri benedica Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso segue la venerazione della Santa Croce, cari pellegrini, la traduzione simultanea è terminata. Durante la venerazione, la traduzione in italiano potete seguire direttamente dall'altare. Il nostro ufficio informazioni, parrocchia, vi ringrazia. Il nostro ufficio informazioni, parrocchia, vi ringrazia. Il nostro ufficio informazioni, parrocchia, vi ringrazia. Il nostro ufficio informazioni, parrocchia, vi ringrazia, 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 vi ringrazia. Gesù, 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 Gesù. Muori per me, Muori per me, Gesù, Gesù, Muori per me. Muori per me. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 Gesù. Gesù, Gesù, Gesù. Grazie a tutti. 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 Ali n'è sve što je teško, križ. Križ, nešto može biti teško, ali n'è mi križ. Gospodine, prinosim Ti osobe i stvari koje su mi teške, koje su mi križ. Gospodine, prinosim Teško, ali nešto može biti teško, ali nešto može biti teško. Nešto može biti teško, ali nešto može biti teško, ali nešto može biti teško. Seigneur, je Teško, ali nešto može biti teško, ali nešto može biti. ali nešto može biti teško, ali nešto može biti teško. ali nešto može biti teško, ali nešto može biti teško, ali nešto može biti teško. ali nešto može biti teško, ali nešto može biti teško, ali nešto može biti teško. ali nešto može biti teško, ali nešto može biti teško. ci sono persone e cose che sono per me una croce, sono difficili, non mi piacciono. ma tutto quello che č difficile non č sempre una croce. ci sono le cose difficili che non sono una croce. signore, io ti presento stasera le persone e le cose che sono per me difficili, che sono per me una croce. ci sono le persone e le cose difficili che sono difficili e desagradabili, che sono una croce per me, ma non tutto quello che è difficile è una croce. qualcosa può essere duro, ma non è una croce per me. signore, ti ofrezco le persone e le cose difficili che sono difficili per me, che sono la mia croce. signore, che sono далci di cose che sono per me, che sono pro parte. signore, ora non è ossicata, che sono per me, che sono per me, sia lo Stone sedotto le persone che sono per me, che sono per me, Swiss con cosa mi, ma non è necessità, ma non è necessità. signore, quindi a gensi che sono per me, che ero non c'è sta succedendo. che sono tutte le cose che sono per me, che sono che io può sentire. e il soggetto il soggetto. Grazie a tutti. 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 Signor, Signor Gesù, Signor, Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti